Secondo alcuni siti web, tra cui Wikipedia.org, il programma va in onda nella fascia The Time con la fase iniziale e in prima serata con la fase serale su canale 5 decalitro 14 settembre 2002. Le prime due edizioni sono state trasmesse su Italia un decalitro 17 settembre 2001 al 27 maggio 2003, mentre dal 16 novembre 2020 al 14 maggio 2021 è tornato su Italia un solamente, per la striscia The Time. Con 22 edizioni all'attivo, è il talent show più longevo della televisione italiana. In queste ore Giulia Stabile ha condiviso sul suo profilo Instagram delle storie in cui si è mostrata, in compagnia di Isabel, Gianmarco Pretelli e NDG, per le strade di Roma. Una in particolare ha catturato l'attenzione dei follower, ovvero quella dell'abbraccio affettuoso di Giulia e il cantante di Lorella Cuccarini. In effetti in tanti hanno chiesto come procede la storia d'amore con San Giovanni, ma la risposta non è arrivata. In realtà i ragazzi si sono incontrati per un valido motivo, ovvero per il concerto di amici tenutosi l'11 giugno nella capitale italiana. Non a caso Giulia e Isabel sono state le conduttrici, in quanto hanno potuto contare su Niccolò de Davities, l'inviato delle Iene. Tra le varie esibizioni sul palco è arrivato un ospite del tutto inaspettato. Si tratta di una maestra di ballo del talent show. La maestra in questione è Alessandra Celentano, la più temuta in assoluto. Ha fatto fare una lezione alla sbarra agli allievi presenti all'evento. I video realizzati dai presenti hanno fatto il giro del web. Tutto sommato è stato un momento divertente dedito alla danza classica. Wax, Angelina Mango, Alessio Cavaliere, Benedetta, Mattia Zenzola e tanti altri volti noti di amici si sono messi nuovamente alla prova tra esibizioni canore e coreografie di ballo pazzesche. Ciò dimostra che il talent show riscuote ancora un grande successo, nonostante passino gli anni.